Musica Mercoledì 2 dicembre 2015, buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa del mattino come sempre in diretta alle 7 e mezzo allora cominciamo dal santo del giorno, come di consueto vediamo subito il santo oggi è Santa Viviana Martire, il sole è sorto le 7 e 23 e tramonterà le 16 e 32 vediamo subito il tempo per oggi, avremo cielo sereno poco nuvoloso ma con foschio nuvole basse lungo la fascia costiera in particolare in parziale di sorvimento durante le ore centrali della giornata le temperature sono stazionari, un lieve diminuzione, i venti sono deboli da occidente il mare sarà quasi calmo e non ci sono particolari fenomeni da segnalare giovedì domani, giovedì 3 dicembre, ancora vedete come oggi più o meno giornata con un po' di sole alternata a nuvole basse lungo la fascia costiera le temperature sono in aumento, per venerdì ancora cielo sereno poco nuvoloso temperature ancora in aumento soprattutto nei valori minimi, i venti sono deboli nord-occidentali avremo tempo stabile sulle Marche fino ai primi giorni della prossima settimana quindi questa settimana sarà caratterizzata da nuvolosità e laddove è possibile anche da un po' di sole soprattutto nelle zone interne allora adesso leggiamo i giornali, cominciamo dalla pagina di Fano del resto del Carlino che si occupa dell'albero, questo albero così criticato che è stato ormai montato definitivamente in piazza 20 Settembre tra l'altro un albero, come leggiamo sul giornale, un albero contestato durerà altri tre anni il formato invece, quello piccolo, mini, lo vedete sull'immagine, questa più grande, questa sopra, questi alberi in miniatura sono stati consegnati, spopolano, sono stati consegnati ieri in Regione il costo di questa operazione dell'albero è di 30.000 euro e lo si monterà, salvo imprevisti lo si monterà anche per i prossimi anni domenica, domenica si accende, quindi insomma adesso prima di, come dico, criticarlo bisognerà vederlo alla fine, quando sarà pronto, acceso e sarà lì domenica in piazza 20 Settembre la Proloco, tra l'altro, la Proloco di Fano dice che sono già stati ordinati 2.000 piccoli esemplari di questo albero e quindi esprime soddisfazione, lo esprime attraverso il Presidente Lucarelli che dice che nessuno di noi si aspettava un riscontro così positivo le ordinazioni sfiorano i 2.000 esemplari, sicuramente stiamo caratterizzando la città in maniera forte però, ecco, in questi giorni anche su Facebook c'è questo confronto con la piazza di Pesaro Pesaro che è già stata allestita, la piazza del popolo, con le luminari ha già fatto l'accensione dell'albero, delle luci la settimana scorsa Appello, e questa è la storia invece che troverete a pagina 13 del resto del chieno di oggi l'appello di questo signore, si chiama Andrea Sgaggi, di 46 anni, di professione muratore ha una bimba di 6 anni, questo papà protesta contro la decisione della ex di non fargli vedere la figlia Fammi vedere mia figlia, dice lui attraverso il giornale questa mattina malgrado l'affido congiunto da parte del giudice non riesce ad avere contatti L'altra pagina invece sulla scuola, il Battisti ha perso la sua battaglia l'autonomia scolastica è stata negata dalla provincia all'istituto commerciale turistico risponde il presidente della provincia, dice ma la nostra proposta è ben fatta la città dovrebbe essere solo orgogliosa Sotto, sull'interquartieri, guardate la conferenza stampa, un po' originale se volete perché è stata organizzata praticamente in mezzo alla strada quella che poi sarà, che è l'interquartieri Pesante eredità, dice il sindaco, pesante eredità da completare una strada sulla quale ci si lavora ormai da una decina d'anni forse di più c'era Carnaroli Il sindaco rassicura gli abitanti del Poderino, politici e tecnici in strada per spiegare lo stato dei lavori Già pagati 2 milioni di euro per questa opera, bisogna darle una conclusione Nei sottopassi invece a Marotta, il tema dei sottopassi è molto sentito nei sottopassi allagati ci si muore, soprattutto se sono progettati male attraverso Marotta questa associazione attacca l'amministrazione comunale solo dopo l'udienza al TAR dell'aprile 2016 sapremo a chi avrà avuto ragione Cemento in collina, spiegateci la Lupus in Fabula, che è un'associazione ambientalista sulle ruspe a San Venanzio e al Comune dice l'area è vincolata aspettiamo documenti Storoni dell'Urbanistica risponde abbiamo consegnato tutti gli atti tranne le ordinanze di Ripristino che non ci sono state richieste La pagina principale di Pesaro invece del resto del Carlino come vedete è tutta per il mistero di Leonardo due quadri contesi e contestati chiusa l'indagine sull'esportazione illegale del ritratto di Isabella d'Este mentre scoppia la polemica su la bella principessa che Sgarbi ha portato d'Urbino per una grande mostra e sopra Banca Marche cresce la rabbia, nel mirino i vecchi amministratori gli azionisti sono sempre più infuriati l'ex direttore Bianconi incassò 17 milioni di euro in 8 anni e poi anche qui lo sport, il basket siete voi, 50 anni di facce da veri tifosi una mostra del quotidiano Il resto del Carlino adesso apriamo invece il Corriere Adriatico la cronaca con la notizia di un tentato furto ieri sera alle 19 a Centinarola di Fano un agente fuori servizio sventa un colpo in villa l'allarme alle 19 di ieri per la presenza di alcuni estranei arriva la polizia i ladri fuggono nei campi a centro pagina Solaris lascia i sindacalisti dicono ha fallito la notizia della rinuncia all'incarico durante lo sciopero per il pagamento degli stipendi arretrati si conclude così la vicenda aperta da una trasmissione televisiva Mediaset che aveva denunciato appunto questa irregolarità restano a rischio 88 dipendenti dell'ATI accordi in prefettura parzialmente disattesi usa un richiamo illegale un cacciatore è stato denunciato dopo un controllo delle guardie del corpo forestale dello Stato di Cartoceto l'episodio è avvenuto il 26 novembre scorso durante un sopralluogo lungo il fiume Metauro giravolta e qui siamo alla politica locale giravolta del Partito Democratico la variante passa lottizzazione sbagliata ma ci sono aspettative decisivo il sì del centro-destra Omiccioli tocca l'aspetto più delicato Santorelli smentisce Garbatini, Nicolelli difende le due famiglie coinvolte Santorelli smentisce Garbatini Nicolelli difende le due famiglie coinvolte Bacchiocchi invece Bacchiocchi e Sinistra Unita contro i Cinque Stelle Livore e mancata condivisione sopra invece Pentastellati sempre i Cinque Stelle scuse lessicali contro la pace si esprimono delusione ma anche protesta quelli di Cinque Stelle di Fano per come la maggioranza si chiude a riccio alle proposte del gruppo consigliare anche quando si tratta di temi come quello della tutela dell'ambiente delle persone della pace e della legalità andiamo velocemente avanti con le altre notizie sempre dai quotidiani sotto il pubblico ha premiato Madame Butterfly di Pizzi il futuro della fondazione teatro più garantito con il recupero di 100.000 euro del comune poi sull'outlet a Marotta anche qui si discute tanto quell'outlet è un'idea distruttiva lo dice il direttore provinciale Roberto Borgiani Commercio e Confesarcenti contro la provincia di Pesaro che ha autorizzato quest'opera la Lucus in Fabula parla di una forzatura pericolosa come dire alle centinaia di imprese per lo più familiari per voi non c'è più nulla non c'è più nulla da fare andiamo sulla pagina di Pesaro invece adesso del messaggero regione alla capezzale del Santa Marta la giunta Ceriscioli promette risorse attraverso l'assestamento di bilancio soddisfatto Biancani che ha lavorato per questo risultato con poco più di un milione dice si recupera l'istituto andiamo sull'altra pagina furti sempre dal Corriere furti denunciati tre minorenni sono due ragazzine di 14 e un 17 rubarono giacche e materiale elettronico nel Mirino due negozi del centro commerciale Santa Lucia le giovani rintracciate grazie alle telecamere adesso invece apriamo il messaggero anche qui andiamo velocemente la prima pagina nuova vita per i palazzi del centro storico di Pesaro ex sede Asur apre il giardino mentre si cercano fondi europei per i piani superiori l'ex cubo aspetta di risorgere con il PRG leggero strada in salita invece per il San Domenico poi sotto a centro pagina Palazzo Ducale venderà cultura il nuovo super manager di Palazzo Ducale Peter Aufreiter ha ricevuto ieri simbolicamente le chiavi e ha illustrato i suoi programmi e poi Mosaici del Duomo scende in campo Pesaro città d'arte Loffreda studia i costi delle due opzioni e lancia un'iniziativa il dibattito è in corso sui social poi l'altra pagina invece del messaggero è quella di Fano per chiudere la rassegna stampa anche qui la notizia delle ambulanze nella tempesta i sindacati si mobilitano al presidio di protesta arriva la notizia che Solaris rinuncia all'ex Croce Azzurra al problema degli stipendi non pagati si aggiunge il futuro dei posti di lavoro De Leo della CISL dice la cooperativa si è impegnata a restare fino al subentro di un'altra società ma noi non siamo assolutamente tranquilli poi il sindaco di Fano Seri che difende l'albero di Natale e parla di obiettivo centrato il nostro obiettivo era ottenere il massimo dell'attenzione su Fano e sul Natale con il minimo delle risorse mi sembra che ci siamo perfettamente riusciti Saipem Ricciatti chiede al governo chiarimenti sul futuro dell'azienda mentre sotto anche qui la cronaca con il furto sventato in una villa di Centinerola di Fano i ladri sono stati braccati dalla polizia però al momento non sono stati presi sono fuggiti tra i campi ma lì si sono volatilizzati e non si sa adesso che fine abbiano fatto comunque questa è la notizia fino a qualche ora fa addio autonomia lo sfogo dell'istituto Battisti la dirigenza dell'istituto commerciale contesta l'operato della provincia e questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa rassegna che naturalmente torna domani mattina in diretta alle 7 e mezza stasera invece alle 20 e 30 c'è il telegiornale occhio alla notizia a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci a voi a voi Grazie a tutti.